130 in issegni e non che hanno risposto all'invito delle sentinelle in piedi a scentere sabato sera in piazza Falcone e Borsellino per la libertà d'espressione per la famiglia naturale. Una veglia in silenzio con lo sguardo diretto verso il palazzo di giustizia dove ognuno dei partecipanti, tra questi avvocati, insegnanti, impiegati, politici, cattolici, musulmani e anche un gruppo di scout, con il proprio credo e i propri ideali, ha letto un libro come simbolo di formazione continua per ribadire che non è possibile zittire chi ha gli occhi aperti e la coscienza vigile. Un'ondata di protesta silenziosa svoltasi in città alla presenza di numerose forze dell'ordine che hanno vigilato sull'incolumità dei partecipanti e che lo scorso 5 ottobre ha visto scendere in piazza 10.000 persone in 70 città italiane. Si tratta di uomini e donne che si riuniscono davanti cattedrali, municipi e tribunali per difendere, così come si legge in un documento diffuso durante la veglia, il diritto dei bambini di avere un papà e una mamma e soprattutto di nascere da un atto d'amore gratuito, senza essere fabbricati come oggetti pronti al consumo. È per protestare in silenzio contro il disegno di legge Scalfarotto sull'omofobia che con il pretesto affermano le sentinelle in piedi di impedire atti di aggressione e violenza nei confronti di persone con tendenze omosessuali, in realtà limita la libertà di espressione non specificando neppure cosa si intenta per omofobia. Un carattere vago della norma che sporrebbe tutti al rischio, che si creino delitti di opinione, si riprima la libertà di espressione e anche la libertà religiosa. Il popolo delle sentinelle in piedi inoltre non condivide il disegno di legge sulle unioni civili che il governo sta preparando e che ricalca il modello tedesco, equiparando le unioni al matrimonio in tutto e per tutto e contestano la magistratura che a colpi di sentenze ha dato il via alla fecondazione eterologa e ha introdotto le adozioni per le coppie omosessuali. Eppure le sentinelle non si definiscono contrarie al riconoscimento, a chi è impegnato in una convivenza omosessuale dei diritti individuali di carattere amministrativo e patrimoniale. La loro posizione coincide con quella espressa dal sinodo dei Vescovi nel paragrafo 55 della relazione che afferma che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Non di meno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza. Una battaglia che non tutti condividono, così come si evince dai commenti alle foto della veglia nissena sulla pagina facebook delle sentinelle in piedi. Una battaglia spesso definita da ortodossi cattolici, eppure le sentinelle si definiscono a confessionali e nelle loro veglie, così come è accaduto a Caltanissetta, sono spesso presenti musulmani.